Non si è accusata la mancanza dell'altro sito? No, no, infatti credo che mi aveva detto che si sentiva bene Ma infatti ti volevo chiedere, ma quel sito, cioè tu come lo gestisci? Cioè la tastiera è solo midi e fai tutto con l'affare sotto? No, no, niente midi, passa il segnale jack che passa per quel delay, è un delay semplicemente Ah, quello sotto è un delay? Però diciamo che è usato un po' in distorsione, quindi quello già di su di stage e poi l'amplificatore è un po' distorbo Quindi i suoni della tastiera sono... o overdrive No ragazzi, non metto anni, non lo so, non lo so, non lo so Ma questo è in realtà una tastiera che hanno regalato No, non lo so.. non lo so, non lo so Non ne credo, non ne credo Non ne credo, non ne credo Non ne credo, non ne credo All'unque 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. a tutti. a tutti. , a tutti. , a tutti. a tutti. , 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 ,, , , ,, 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 ,,, ,, ,, ,, ,, ,,, ,, 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 ,,, ,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,, ,,, 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 ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,,, 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 ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,, 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 ,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,,, ,,,, ,,, 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 ,,,,,,, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.